Il tempo Il tempo passa per tutti, anche per il Duran Duran, parliamo di musica ma parliamo anche d'arte perché lo abbiamo già annunciato prima, 4-14 dicembre una bella iniziativa, mostra al mercato della piccola editoria ovvero Cormons Libri ed ecco che qua abbiamo tante cose veramente, fate tante cose voi veramente. Sì beh Cormons credo, buongiorno a tutti innanzitutto, buongiorno a tutti e buongiorno a te Monfanti, grazie anche a Radio Gorizia 1 per questo spazio che mi è conosciuto. Sto guardando quello che stai facendo da un po' di tempo a questa parte, tantissime cose. Sì tantissime cose, tantissime cose, Cormons credo che giustamente si presenti come una realtà dal punto di vista artistico, culturale, non indifferente a livello provinciale ma direi anche a livello regionale. Adesso noi pensiamo a Jazz and Wine, a sconfinando di questa primavera che si ripeterà anche nella prossima primavera e di questo Cormons Libri che avrà una carrellata di personaggi a livello nazionale di primo ordine. I nomi sono molti, diciamo che è stata fatta una scelta un po' diversa di quella dell'anno scorso che ha visto un elenco molto lungo di personaggi, di scrittori, autori poetichi. Una cinquantina che hanno imperversato la Sala Italia, l'anno scorso dico, in 11 giorni, quest'anno un po' per motivi di taglia alle spese comunali, eccetera. Che strano, penso sull'anno, che strano, taglia alle spese. Abbiamo scelto di chiamare meno gente ma sicuramente di rilievo e di spessore maggiore. Sì ma vedo, Cormons Libri ha una storia, tu l'hai presa in mano e l'hai un po' cambiata. Ecco, ha una storia, una storia lunga, poi diciamo si è fermato un po' anche perché chi è poi subentrato alla fin fine, diciamo non faceva un discorso forse diciamo di contenuto culturale. Adesso come adesso le proposte, credo, spero, anzi visto che abbiamo lavorato sono sicuramente così. Ma chi c'è anche il DJ Francesco? C'è anche il DJ Francesco ma vorrei iniziare diciamo con... Ecco diciamo cronologicamente, quando si apre? Ecco cronologicamente si apre con l'inaugurazione il 4 di dicembre e si protrae fino il 14. Alle ore? Alle ore diciamo i giovedì e i venerdì dalle 17 alle 20 e 30, il sabato, domenica e 8 dicembre dalle 10 e 30 alle 13. Io citerrei, scusate, ma una cosa. L'inizio, l'omaggio a Maria Pia Pavani. L'omaggio a Maria Pia Pavani, ecco spieghiamo chi è, segue quello dell'anno scorso che era stato dato, conferito a Dario Clemente, altro grosso personaggio nell'ambito culturale cormonese, Maria Pia Pavani è una poetessa pitrice cormonese, morta all'età di 66 anni, mi pare di ricordare, il 28 di agosto di quest'anno, la quale diciamo con una forza di volontà pazzesca ha continuato a scrivere poesie, a pensare poesie, a dipingere con il computer, pur essendo diciamo relegata al letto e dovendo sopravvivere diciamo con il respiratore artificiale. Comandacciaio. Esatto. Comandacciaio. Diciamo che facciamo una cosa un po' cronologica, non abbiamo molto tempo, abbiamo parlato, l'inaugurazione del 4, poi cosa si potrebbe dire? Che insieme a Cormons Libri ci sono anche mostre ad arte digitale. Diciamo che sono, vorrei dire innanzitutto è doveroso dire che il tutto viene fatto anche grazie al contributo del Comune di Cormons, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della provincia di Gorizia, oltre che della cantina produttori dell'Enoteca. Quest'anno è cambiato abbastanza rispetto all'anno scorso, anche con le collaborazioni esterne. Dicevo prima che ci sono molte le associazioni che si sono avvicinate come Graffiti di Gorizia, oppure l'Associazione Culturale Equilibri di Gorizia, nonché l'Università della Terza Età, la Biblioteca di Cormons e Amis di Montquarine. Cormons incontriamoci, lo spazio espositivo Tilt e il Circolo Culturale Il Faro di Reana del Royale. Abbiamo una puntata sola, è vero. Va bene. Cerchiamo di essere. Cerchiamo di essere. Fra un po' torniamo e parliamo con Renzi Furlano di Comons Libri. Fossati, il rimedio, ogni tanto, io mi diverto a dire queste cose, tanti si ricordano, pochi si ricordano di chi era Ivano Fossati negli anni 70, quando si presentò a Sanremo con la tuta da Gesù Cristo, spargendo i fiori e cantando Iesael, perché è una cosa che va ricordata ogni tanto qual è il passato delle persone, di quello che hanno fatto e di quello che sono riusciti a portare avanti. Intanto Fossati comunque è diventato uno dei più grossi cantautori, uno di quelle particole persone che si può ancora definire un cantautore di questi tempi. Torniamo a Comons Libri, 4-14 dicembre, mostra il mercato della piccola editoria. Della piccola editoria perché quella grande è già veicolata di per sé, ha già le sue forme di pubblicità, di commercializzazione, le sue vie grosse che sono le librerie, mentre quella piccola non è detto che riesca a raggiungere la grande libreria. Pertanto cerchiamo nelle possibilità di far vedere, di riuscire a mettere in vendita dei libri che magari nella grande libreria non arrivano. Perché il Cormons con la O accentata grande? Ma questo è un qualcosa che viene ultimamente usato per dare una specializzazione, un risalto a Cormons. Oltre a quello che si dice, poi a Cormons. Questo anche per la pronuncia esatta di Cormons. Ecco, abbiamo parlato di che Cormons Libri parte il 4 di dicembre, omaggio a Maria Pia Pavani, vi ho spiegato anche di Paul David Redfern, ovvero Graffiti, che presenterà un video d'arte digitale, Codice M, poi ci sarà anche una mostra fotografica, segni di luce di Antonio Gobetti, Mario Riva e Roberto Passoni, organizzata dal Circolo Culturale Il Faro di Reana del Royale. Ci sarà da parte dei Amis de Monquarene anche proiezione di filmati su artisti cormonesi. per il passo a curare dei filmati su artisti cormonesi. ocup Taking Amis de Monquarene anche proiezione,